Grazie, Presidente. Noi abbiamo dovuto anche ascoltare l'intervento di chi ritiene che la nostra sia un'inutile perdita di tempo, quella di soffermarsi intorno all'inaudita sentenza della Corte Costituzionale. D'altro canto, le parole pronunciate dal collega eletto nelle file di scelta civica non potevano che andare in quella direzione. E' merito del signor Monti se lui oggi è qui in aula con noi. Oggi per noi è stata scritta una pagina triste per la democrazia. Impedite a centinaia di migliaia di esodati che avete creato con quel provvedimento che è degno della peggior macelleria sociale. Avete creato migliaia di esodati ai quali avete allungato i tempi di permanenza nel mondo del lavoro a persone che domani non potranno esprimere il proprio parere intorno a una legge che non possiamo che definire. La ringrazio. Onore di Kaon.